Insomma, Rima, intanto le prime impressioni da neogiocatore del Pescara? Allora, abbiamo fatto un buon ritiro, ho visto che la squadra ha seguito bene il mister, abbiamo lavorato tanto e forte e questo anche il mister ci ha riconosciuto, quindi credo che siamo partiti bene questi primi dieci giorni, dodici giorni di ritiro. Un'estate intensa per te, perché è la festa con il Monza, ma ora questa nuova esperienza, descrivici questi due momenti. È stato sicuramente bellissimo chiudere a Monza con quella festa lì, con la promozione, però poi è arrivata questa opportunità per me che deve essere una grande opportunità per partire per la mia carriera e sicuramente Pescara è una piazza molto, molto importante. Ecco, appunto, come si è sviluppata per ora la tua carriera? Facci un rapidissimo excursus. Ho fatto tutto il settore giovanile del Genoa, fino alla primavera ho avuto la possibilità di allenarmi e stare con la prima squadra e poi ho fatto due anni in Serie D, uno a Nocerina e uno a Bustese in provincia di Milano e poi sono stato quattro anni a Monza, sono arrivato in Serie C con la vecchia presidenza e ho avuto la fortuna, poi nei quattro anni successivi con l'arrivo del presidente Berlusconi e il dottor Gagliani di trovare una società molto importante con la doppia promozione, quindi è stata una bella esperienza. Senti, è arrivato a Plizzari, non so se vi conoscete, magari perché vi sarete affrontati in altri momenti, sarà una bella competizione. Sì, io lo conoscevo come portiere perché per il percorso che ha avuto lui, il suo passato lo conoscevo e sicuramente avere un portiere così in allenamento durante la settimana insieme a Daniello e agli altri ragazzi aumenta la competizione e sicuramente può solo che aiutare ad alzare il livello, a tenere la concentrazione alta e a cercare di migliorare tutti i giorni per lottarsi per il posto, per giocare, per quello che verrà. L'ultima, non so se magari dei compagni di squadra del passato, Mancuso, Bettella, ti hanno parlato di Pescara, ti hanno dato qualche istruzione. Sì, sì, perché io ho iniziato la preparazione il primo di luglio lì a Monza, quindi c'erano Bettella, Macin, ho parlato con Rigoni, anche se è stato qua poco, con Mancuso, tutti mi hanno parlato molto bene della piazza, della squadra, della città, mi hanno detto tutti che mi sarei trovato molto bene e quindi spero che sia così. L'ultimo obiettivo di squadra? Pescara è una squadra che deve ambire al massimo il miglior obiettivo possibile, che è quello della promozione, che può essere diretta o attraverso i play-off.